B4 Care Balance Evolution Professional, un trattamento dedicato alle pelli miste a tendenza impura, grasse, con presenza di imperfezioni e anche un effetto lucido, untuosità del viso. È un trattamento che si avvale di 4 prodotti della linea Balance Evolution e ha come detersione l'acqua micellare, ovvero 3 prodotti in uno. Infatti quest'acqua strucca, deterge e tonifica il viso in un unico gesto. Va utilizzata con l'ausilio di un dischetto di cotone o anche un batuffolo. Non ha bisogno di risciacquo, pertanto di mattina dopo l'acqua micellare possiamo passare direttamente all'applicazione dell'impacco professionale, un impacco che va ad agire sugli effetti dovuti alla produzione in eccesso di sebo. Infatti va ad opacizzare la pelle, per questo è ideale anche come base trucco. Di notte, subito dopo l'acqua micellare, consigliamo l'applicazione del siero professionale Balance Evolution in confezione da 10 buste. Questo siero va massaggiato su viso, collo e decoltè fino ad assorbimento. Dopo il siero va applicata la crema maschera Balance Evolution, che è una crema che va ad agire sulle cause dovute all'eccesso di sebo. Sia l'impacco che la crema maschera possono essere utilizzate come maschera appunto, possono essere lasciate in posa per 15-20 minuti, quindi o asportati o fatti assorbire. Il trattamento è un trattamento quotidiano e di lavoro anche intensivo, infatti il siero va applicato con una bussa al giorno per 10 giorni tutte le sere.